Oh yeah! Ragazzi, ma come è possibile che in questo paese vengono premiati solo ladri, puntane e leccaculi? E' allucinante! E a proposito di leccaculi, il prossimo pezzo è dedicato al direttore di un telegiornale media, se è troppo... No, no, non facciamo niente, mi difende! Questo ce la faccio come il culo, ragazzi! Ma il prego ve ne ha fottuto pure i soldi a fare lo score, questo mi fa un cazzo proprio! Questo se lo giri davanti e dietro è uguale, ce la faccio uguale al culo, ragazzi! Comunque il nostro paese è pieno che mi difende, ragazzi! Il pezzo si chiama The Trouble! No, no! Oh yeah! Oh Grazie a tutti 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 Grazie a tutti